Un saluto agli amici dell'Ariston Comic Selfie, giunto alla quarta edizione, sono veramente felice di far parte anche quest'anno di questo progetto e poi di essere di nuovo ancora per una volta nel contesto del teatro Ariston di Sanremo. Quest'anno ci sarà tanta comicità, ma non solo perché si darà spazio anche alla magia, ma non solo perché a fare da tre d'union e da tematica principale, un po' della manifestazione, è anche l'intelligenza artificiale. E quindi, giustamente, mi hanno chiamato perché a far da contraltare all'intelligenza artificiale ci doveva essere la deficienza reale e anche un po' digitale. Quindi non vedo l'ora di calcare di nuovo le terre liguri della splendida Sanremo, ci vediamo presto e non vedo l'ora che cominci la manifestazione. Ciao ragazzi, forza Ariston Comic Selfie!